Io passo la parola a Francesco Ronchi, sinestesia, da più di dieci anni nell'IT, per cui l'avete visto passare di mode e di cose concrete, anche quindi ci facciamo, dai. C'è un microfono. Io ci provo, mi sentite anche senza? No, per gli amici in streaming, altrimenti ci picchiano. Va bene. Bene, buongiorno a tutti, io sono Francesco Ronchi, fondatore di Sinestesia SRL. Sinestesia è una società che si occupa di sviluppo e progettazione di applicazioni su mobile e web. Il mobile è il focus principale della nostra società, che è una società che nasce come società di tecnologia e si evolve aggiungendo anche tutta la parte di comunicazione e di marketing. Però il cuore pulsante della società è una società tecnologica, un team di esperti, sviluppatori grafici e quant'altro. Allora, entriamo nel vivo, raccontando alcuni fatti sul mobile. Allora, non vi racconto numeri, non è vero, qualcuno ve lo racconto, prometto che saranno pochi, perché immagino che ne abbiate già sentiti tantissimi. Sostanzialmente tutti dicono ormai che il 2013 è l'anno del mobile, ci sarà il sorpasso durante quest'anno di quello che è il numero di connessioni da web rispetto al numero di connessioni che viene fatto attraverso i dispositivi mobili. Quindi da quest'anno più del 50% degli utenti navigheranno da mobile. Già sta succedendo adesso. E questo è un dato quantitativo, 20 milioni di utenti. Ma il dato qualitativo è che il mobile, dal punto di vista di quello che possono essere le strategie di marketing e di comunicazione, funziona molto meglio delle tradizionali campagne online. A 3, 4, anche 5 volte meglio rispetto a molte metriche standard. Quindi in sostanza ci troviamo di fronte a due grandi fatti. La grande diffusione del mobile e l'efficacia sommate dando un'opportunità importante. Come sfruttarle? Beh, la prima cosa che io mi sento di dire è la conoscenza. Allora, quello di cui vi voglio parlare oggi deriva dall'esperienza di sinestesia nella creazione di applicazioni, nella creazione di app in particolare. Da quando siamo partiti ne abbiamo create oltre 50. e voglio raccontarvi un succo di quello che sono state le esperienze che abbiamo avuto e la strategia che porta poi effettivamente al successo o al fallimento di una campagna di marketing mobile basata sulle applicazioni. Quindi conoscenza dell'ecosistema, del media e la strategia, una strategia elaborata sul campo. Bene, le mobile apps, che cosa sono? Vabbè, lo saprete ormai tutti, sono delle applicazioni che possono essere installate direttamente sui dispositivi dell'utente. A differenza di quello che è il mobile web, di cui oggi non mi occuperò, che è chiaramente il web ottimizzato per i mobile. Quindi la vera rivoluzione delle mobile app è stata la possibilità di estendere le funzionalità dello smartphone, di quello che effettivamente rende smart il telefono. Vi avevo detto che qualche numero avrei dato, 40 miliardi di download di applicazioni e quasi 800 milioni di app complessive soltanto per quello che riguarda l'app store di Apple. Quindi questo, giusto per sottolineare ancora per l'ultima volta questo fatto, una crescita esponenziale. Questo fa pensare, può far pensare, può far credere che sia facile raggiungere degli obiettivi e dei risultati attraverso questo video, attraverso le app. In realtà è un po' a volte una corsa all'oro. Se pensiamo a quanti effettivamente si sono lanciati con l'idea di ottenere dei risultati pazzeschi nel mondo del mobile, poi in effetti sì, alcuni ci sono riusciti, ma in rapporto ai numeri che abbiamo visto non sono poi così tanti. Un esempio fra tutti, la finlandese Rovio, la società che ha creato Angry Bird, che conoscerete, un gioco che ha fatto un successo strepitoso. Beh, allora, Angry Bird è stato creato con circa 100.000 euro di investimento iniziale. Nel giro di 15 mesi ha portato a un fatturato totale di 50 milioni la società che lo ha creato. Però, attenzione, non è stata la prima applicazione che l'hanno realizzato. Ne hanno realizzate 51 prima di arrivare ad Angry Bird. Perché poi sono riusciti ad avere successo con Angry Bird? Beh, allora, sicuramente perché hanno guadagnato una buona conoscenza di quello che andava fatto, hanno sfruttato un buon design, quindi una progettazione accurata di quello che è stato l'applicazione, il gioco in sé, e sicuramente anche Perseveranza è una strategia dietro completa e complessiva. Quindi si può arrivare, però, attenzione, serve la strategia. Allora, abbiamo identificato alcuni punti principali di quello che possono essere gli step, i focus su cui soffermarci. Il primo è quello degli obiettivi. Gli obiettivi sembrano banali e scontati, ma spesso e volentieri arrivano da noi dei clienti che vogliono fare un'applicazione, vogliono fare una campagna su mobile, ma non sanno bene neanche perché. Perché magari hanno sentito che appunto funziona bene, ci sono delle buone possibilità di ritorno, però, attenzione, bisogna cercare immediatamente di capire quali sono effettivamente gli obiettivi che ci si propone. Gli obiettivi possono essere moltissimi, possono andare dalla crescita della conoscenza di un brand, alla vendita online, alla creazione magari di un'applicazione che è stessa un servizio, oppure fornisce un valore aggiunto ai servizi della società stessa, ai servizi che la società fornisce anche su altri canali, anche offline. Quindi fondamentale il focus sugli obiettivi. Fondamentale nel momento in cui però parto con una campagna, tenere presente quali sono i constraint di tempistiche e di costi. Anche qua, sembra di dire una cosa scontata, però il mobile è molto diverso dal web, è molto differente come dinamiche, è molto differente come costi, è molto differente come tecnologia. Basta pensare al fatto che il mobile è molto più giovane rispetto al web, quindi è meno maturo sotto molti punti di vista, ed è anche molto frammentato come mercato dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista anche dei vari target, ed è una cosa che vedremo tra poco. I target. Parlando di target, altro punto molto importante da considerare. Il target è dato sicuramente da un target demografico, quindi cercare di stabilire qual è la fascia di età, qual è la tipologia di utenti a cui voglio andarmi a rivolgere, in modo da atterrare poi effettivamente la mia campagna, ma anche per esempio i luoghi di fruizione. se si vanno a vedere quali sono le statistiche, si scopre che il mobile si usa, sì, ok, al supermercato, si usa in treno, sull'autobus, per strada, in ufficio però anche spesso, o anche a casa, sul divano, magari mentre si guarda la televisione. Quindi questo tipo di target mi può dare dei suggerimenti su quello che può essere la mia campagna. Infine le piattaforme, dicevo, le piattaforme sono molto frammentate in questo momento. Le piattaforme mobile principali a livello tecnologico sono quella di Apple e quella di Google, Android, che insieme coprono circa il 93%, 95% di quello che è il mercato utile e interessante da questo punto di vista, dal punto di vista delle app. Cosa intendo per utile e interessante? Perché ci sono anche molti altri smartphone, altre marche di smartphone, però o hanno una diffusione più bassa, oppure hanno delle dinamiche di utilizzo da parte degli utenti che non comprendono l'utilizzo delle app. Basti pensare per esempio ai vecchi smartphone con Symbian. Gli altri due player sono Windows e Blackberry. Windows in crescita, almeno anche se molto lentamente, Blackberry in declino, anche se con la versione 10, la nuova versione del sistema operativo, i nuovi telefoni che sono usciti all'inizio di quest'anno, sembra che ci sia una piccola inversione di tendenza. Anche qua da fare un distinguo, un distinguo importante. iOS è diverso da Android, Apple è diverso da Google. Da molti punti di vista, ma in particolare parlando di target, sono diversi i due target di utenza. Per esempio, nonostante Android sia più diffuso come vendita, il numero di dispositivi venduti sia maggiore, tendenzialmente gli utenti Android sono meno, per esempio, meno propensi all'acquisto. Sono meno propensi in generale a utilizzare il proprio smartphone in quanto tale. Si tratta di statistiche, è una media ovviamente. Perché? Perché ci sono molti dispositivi a basso costo, che magari vengono forniti direttamente dall'operatore telefonico, e quell'utente ha meno consapevolezza. Mentre chi in genere acquista uno smartphone Apple è un po' più attento a queste cose e utilizza poi molto di più lo smartphone, scaricando applicazioni, navigando su internet. Le altre due piattaforme minori non sono totalmente da scartare, da sottovalutare. Perché potrebbero esserci dinamiche interessanti, non fosse altro dovuto al fatto che, essendoci meno affollamento, essendo delle piattaforme più piccole, essendoci quindi meno affollamento, le campagne e le attività hanno maggiore risalto. Inoltre spesso sia Blackberry che Microsoft spingono di più perché hanno la necessità di aumentare il numero di applicazioni, quindi sono disponibili a supportare delle attività di marketing. Sempre parlando di piattaforme alternative, vi parlo anche di Amazon. Amazon ha creato una propria versione di Android che vive in un ecosistema a parte, quindi l'App Store non è lo stesso di Google e anche alcune funzionalità sono differenti. Vivono su un'App Store a parte e vivono anche su dispositivi a sé. Anche qui può essere interessante valutare questo tipo di dinamiche perché, per esempio, esiste il concetto dell'App gratuita del giorno che viene selezionata direttamente da Amazon e che dà una grande visibilità, per esempio nel caso di campagne, di comunicazione. Parliamo di strumenti. Quali strumenti utilizzare? Allora, il mobile l'ho definito più volte un ecosistema, in realtà è un insieme di ecosistemi, quello del mobile, ce ne sono tantissimi e ci sono tantissimi strumenti tecnologici e non, quindi tecnologici di marketing, di metric, eccetera. è importante conoscerli, quindi esplorare e avere una buona pianificazione dell'utilizzo di questi strumenti. In particolare sulle tecnologie vorrei raccontare questo. Esistono diversi livelli di qualità che si possono ottenere a seconda del tipo di tecnologie che si vogliono andare a utilizzare. Le macro aree sono quelle che ho elencato qui, c'è lo sviluppo nativo che parla esattamente il linguaggio di un tipo di dispositivo, quindi di iPhone piuttosto che di Android. È il linguaggio con cui io ho la maggiore libertà e riesco a ottenere la maggior qualità del prodotto finale. Però è uno sviluppo più costoso, perché se devo fare delle applicazioni per più piattaforme dovrò fare tante applicazioni diverse, quindi il mio investimento si moltiplica. Di contro posso utilizzare dei sistemi di sviluppo cross-platform, cosiddetti cross-platform, che includono spesso l'utilizzo di HTML5 e di altre tecnologie. Pro e contro, sicuramente mi permettono di risparmiare, di fare un investimento minore, di riutilizzare spesso anche degli skill aziendali che magari avevo già sul web, però di contro la qualità finale è percepita, la velocità dell'applicazione e anche il numero di caratteristiche che l'applicazione può avere sono inferiori. A volte non ne vale la pena per il risparmio che si ha. Infine c'è un'ultima strada che è la mobile web app, cioè un'applicazione totalmente in HTML5, che è un animale strano perché è praticamente un incrocio tra un sito web e un'applicazione. Però HTML5, questa tecnologia relativamente recente, permette di creare delle applicazioni, dei siti web, che simulano molto da vicino il comportamento di un'applicazione. Tenere presente quello che può essere, possono essere l'attività di integrazione con l'esistente, l'integrazione con l'esistente significa quando crea una campagna potrei voler aumentare una base di utenti e quindi collegare magari l'applicazione a un CRM esistente, a sistemi social, come si era detto anche nell'intervento prima di me. o semplicemente l'applicazione potrebbe dover fruire di contenuti che sono già in un CMS su web. Quindi pensare a tutto quello che possono essere le logiche per integrare l'esistente con l'applicazione, con la campagna che si sta andando a creare. I contenuti. Content is the king. Questo è un mantra che si è ripetuto parecchio nell'ambito del web e vale assolutamente anche sul mobile. Questo è il cuore di tutto. Il contenuto in un'applicazione è fondamentale. Sembra anche qua di dire un'ovvietà. Però questo mantra va ripetuto e soprattutto va letto ogni volta che qualcuno di noi o un cliente pensa di creare un'applicazione. Perché dobbiamo chiederci se nell'applicazione che stiamo andando a pensare, stiamo dando delle informazioni, stiamo dando un servizio o stiamo creando intrattenimento o ovviamente più di questi elementi. Però almeno uno ci deve essere. Perché? Perché se no... Vabbè, intanto è molto probabile che Apple rifiuti la pubblicazione di un'applicazione che non ha nessuno di questi. Perché viene ritenuta, non a torto, inutile. Non solo Apple, anche altri vendor fanno questo tipo di ragionamento. Seconda cosa perché gli utenti la riterrebbero inutile. Quindi per il successo di quello che vogliamo effettivamente realizzare è importante tener conto di questi tre elementi. Ma se il contenuto è il re, la user experience è la regina. Questa è una battuta che ho rubato a un mio follower di Twitter ma che mi è piaciuta molto perché calza assolutamente. La user experience è tutto l'insieme di quello che l'utente vive nel momento in cui va ad utilizzare la nostra applicazione. Quando creiamo un'applicazione stiamo creando in realtà un'esperienza ed è importante che questa esperienza sia il più possibile comoda, facile, bella, piacevole altrimenti l'utente si annoia, si stufa e decide poi di non utilizzare più o di disinstallare la nostra applicazione. Per fare questo è importante una progettazione molto attenta un design molto attento dell'applicazione stessa. Due buzzword di cui vi parlo sono queste. il mobile first è un movimento se possiamo così definirlo abbastanza recente che dice addirittura progettiamo prima per il mobile invece di fare quello che si fa spesso tradizionalmente creare una campagna, un'attività prima su web e poi adattarla al mobile partire direttamente dal mobile e poi adattarla eventualmente in un secondo momento o contemporaneamente anche al web. questo fa sì che si possa dare all'esperienza mobile l'esperienza migliore in partenza e non un adattamento una castrazione di quello che è un qualcos'altro pensato per funzionare altrove. Un esempio di questo è stato Instagram Instagram ci ha messo due anni a fare il sito web prima ha fatto unicamente l'applicazione. Una modalità di realizzare il mobile first ma che non è solo mobile first è il responsive design anche questo è un'altra buzzword che si sente nominare spesso il responsive design sostanzialmente è una progettazione che si autoadatta la progettazione si usa nel web questo tipo di progettazione ma anche per esempio sulle applicazioni che devono funzionare su un range di dispositivi ampio è un sistema di progettazione che si autoadatta a quelle che sono le caratteristiche la dimensione dello schermo e del device. Promozione la promozione è importante perché se realizziamo qualcosa di meraviglioso è fantastico ma nessuno lo sa ovviamente siamo destinati al fallimento quindi anche su mobile abbiamo canali di comunicazione canali di promozione ci sono i classici paid media own media e earn media ovvero i mezzi di promozione che io pago banalmente le adwords ma anche altri sistemi innovativi tipo ahimè app gratis che in questo momento è stato eliminato dall'app store però continua a funzionare per esempio su android o anche altre applicazioni simili dove io pago per ottenere visibilità sugli store gli own media i media che io possiedo quindi il mio sito web può essere un canale di promozione il sito mobile altre applicazioni quindi cross promozione tra applicazioni differenti oppure il marketing all'interno degli app store c'è la possibilità effettivamente anche di fare delle attività di SEO anche se non si tratta veramente di SEO però c'è la possibilità comunque all'interno dell'app store di realizzare delle attività per migliorare la visibilità della propria applicazione learn media invece è quello che non è né mio non è neanche pagato o comprato ma è quello che è virale quindi tutto quello che sono il mondo social le recensioni stesse anche all'interno degli store e così via infine le metriche misuriamo quello che abbiamo ottenuto quindi qual è stato il successo della campagna che sono andato a realizzare ho molte possibilità nell'ambito delle metriche ho la possibilità di inserire all'interno dell'applicazione attraverso dei tool dei sistemi di analytics esattamente come viene sul web posso utilizzare i sistemi di analytics che mi mette a disposizione lo store e quindi Apple in parte Android e gli altri store e misurare costantemente quello che sta succedendo non soltanto alla fine della campagna perché misurare costantemente mi permette eventualmente di correggere il tiro su quello che sto facendo quindi è importante monitorare le metriche oltre che quello che possono essere ad esempio le recensioni sugli store come sapete tutte le applicazioni hanno la possibilità di votare e scrivere una recensione sulle applicazioni questo è uno dei sistemi che permettono possono condannare o dare il successo a un'attività o un'applicazione su mobile quindi monitorare attentamente quello che gli utenti dicono che cosa succede e dare anche una risposta molto rapida molto veloce ai feedback e ai vari rating in conclusione raggiungere gli obiettivi quindi attraverso una strategia elaborare sempre una strategia mobile sfruttare le opportunità che ci dà il mobile per creare quel mantra che diciamo prima quindi divertire informare o fornire servizi e sfruttare le caratteristiche che qua io vi ho elencato brevemente il tempo non è assolutamente non permette assolutamente di raccontare tutte quelle che possono essere le possibilità negli altri talk in parte alcune cose sono state dette se volete approfondire queste cose noi realizziamo anche dei workshop in cui raccontiamo per un po' di ore tutte queste tematiche in maniera molto più approfondita e molto più ricca di esempi e di altre informazioni infine concludo con questa frase un po' provocatoria di Andrew Keane che è un un imprenditore statunitense anche un po' controverso che dice il mobile è destinato come termine a scomparire sostanzialmente già suona quasi arcaico perché il mobile sta diventando in realtà talmente pervasivo che entro qualche anno non avrà neanche più senso parlare di mobile e distinguere mobile e non mobile sarà la norma la tendenza ormai è già talmente avanti che questo succederà molto presto probabilmente quindi è importante essere pronti e preparati a questo tipo di evento grazie grazie Francesco grazie 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 grazie